www.pilio.it ma cosa è che per prendere la polpulgisci ci hai fatto dagli olio? ma Danilo, hai anche l'audio? certo, che cazzo telecamera è? ma se vuoi prenderlo il primo mio devo dire che ci andiamo a ritrovare il primo bar tu che è il primo bar però tu che ci andiamo a fare la pipì si grande sacca sono molto teso eh figlio, immagino oh no, canta, dai che mi canti dietro sentiate lo scopo un'altra no, li siete? non semate vai dito, vai dito vai dito no, dai, non c'è dietro non si può fare così non c'è mai, non c'è mai 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.